Si va a principiare i teatri di pietra nella provincia di Palermo e questo è possibile grazie alla sostegno e alla collaborazione del parco archeologico di Mera, Montegliato e Soluto. In questo contesto si è deciso di partire da Montegliato e qui da Montegliato partiamo quest'anno presentando tre opere, tutte dedicate al tema del mito, del Mediterraneo, della cultura classica. Si debutta il 5 con Orazio Alba con un omaggio alla figura straordinaria di Circe ma raccontata attraverso gli occhi di Ulisse in forma di conto, uno spettacolo che è un incalzare continuo delle emozioni che ha Ulisse di fronte a questa figura, innanzitutto donna, primanco che è veggente, primanco che maga. Poi il giorno 8 tocca a Bottega del pane con Orestea, Agamè non è più coefore, un grande lavoro sulla contemporaneità, sullo stato di impotenza che ci viene raccontato dal mito e viene restituito con una ineluttabile chiarezza e lucidità dalla messa in scena di Cinzia Maccagnano. Quindi il giorno 13, ultimo appuntamento dei teatri di Pietra San Cipirrello con Agliace da Rizzos con la regia di Piazza e interprete Viola Graziose.